L'Andrangheta è una holding che non perde occasione per arricchirsi, riuscendo a contaminare qualsiasi pezzo della società lasciato senza presidio e pervadendo tutto il territorio nazionale. Ad affermarlo per il distretto di Diadi Catanzaro è stato il responsabile della sezione operativa della direzione investigativa antimafia catanzarese, il vicequestore Giuseppe Maria Emidio. Arrivato da poco alla guida della sezione, il vicequestore ha incontrato i giornalisti per fare il punto sulle attività svolte e sui risultati conseguiti che sono contenuti nella tradizionale relazione della DIA. Per Emidio è stata anche la prima uscita pubblica da quando ha assunto la guida della sezione. L'investigativa antimafia ha prodotto per prendervi conto di quello che è il fenomeno dell'Andrangheta oggi, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ci dobbiamo disabituare a vedere l'Andrangheta come un fenomeno storico e arcaico, ma dobbiamo abituarci a considerarla come un fenomeno imprenditoriale. Quello che si vede dalla lettura attenta della relazione semestrale è il fatto che l'Andrangheta ha oramai un carattere sovranazionale, è riuscita a pervadere tutte le regioni d'Italia. Non più tardi di qualche mese fa abbiamo visto che l'Andrangheta aveva dei gangli e delle locali, anche all'interno della Valle d'Aosta e in altre regioni dove precedentemente probabilmente gli abitanti di quel territorio non conoscevano il territorio dell'Andrangheta. Quindi quello che emerge dalla relazione semestrale a prescindere da quelle che sono le mere elencazioni delle operazioni di polizia e giudiziaria che hanno interessato il territorio e la mere elencazione dei locali che pervadono il territorio provinciale delle varie province è il fatto che questa mafia è diventata imprenditoriale e sta per così dire sistemando, sta organizzando quelle che sono le possibilità di arricchimento con dei reati nuovi o comunque con dei reati esportando il modello che già in passato in Calabria aveva messo in essere. Per esempio quello è il discorso delle società cartiere, delle società fantasma che servono a riciclare il denaro e quindi a rendere pulito quelle che sono le ricchezze storiche della criminalità che derivano ovviamente dal traffico di sostanze suoi presenti. Quindi vi invito a leggere tutta la relazione semestrale e nel vostro caso a divulgarla affinché anche altri possano comprendere quello che è questa globalità del fenomeno dell'andrangheta a livello nazionale. E ai cattini cosa è il caso di dire? Di stare attenti, di vedere e soprattutto di collaborare con le forze dell'ordine, di per così dire segnalare quelle che possono essere le eventuali anomalie, discresie che vengono prese in considerazione. Nella relazione della DIA sono state analizzate le dinamiche che riguardano le province di Catanzaro, Crotone e Cosenza e Vibbo Valencia, prendendo in esame le varie cosche attive sul territorio e le operazioni di contrasto portate a termine tra gennaio e giugno dello scorso anno. Grazie a tutti.